Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze, Sud e Incisa, Reggello. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Sulla tangenziale di Siena, chiusa una corsia per lavori prima dello svincolo di porta San Marco, in direzione Siena Nord. Sulla statale 3 Vis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Valsavignone e Canili, in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. A Firenze, in via Canova, restringimenti e senso unico alternato per lavori di asfaltatura, fino al 31 agosto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!